Sarà sciopero del personale tua lunedì 16 settembre. È stato indetto dai rappresentanti sindacali di categoria in aperto contrasto con la politica del presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giulianti. Abbiamo dichiarato lo sciopero a tu e anche lo sciopero politico. Il lunedì mattina faremo anche una manifestazione sotto la regione perché riteniamo che sia lo sciopero politico in quanto ci sono tantissime aziende che hanno dei vari problemi. Per esempio Cerella sta andando in fallimento quindi ci sono 70 posti a rischio, Lama dell'Aquila ha disdettato l'accordo di secondi livelli, Parcomacchini in tutte le aziende carente. Secondo i sindacalisti i dirigenti di Tua si nascondono dietro il problema di far quadrare i conti e questo sulla pelle dei dipendenti. In un contesto nazionale dove si parla di salario minimo e di applicazione di contratti nazionali questa amministrazione cerca di fare subconcessioni applicando un dumping contrattuale. Cosa significa? Significa che chi verrà assunto in quelle società che avranno affidate quei servizi non verrà applicato il contratto nazionale di autoferro travieri. Per essere espliciti un lavoratore assunto in Tua, neo assunto, prende 1150 euro, un lavoratore assunto in quelle società noi non avremo modo di capire quale sia il contratto che sarà applicato né quanto verrà a prendere a fine mese. I rappresentanti di categoria sono fermamente contrari all'esternalizzazione dei servizi annunciata da Giulianti che rappresenterebbe un generoso regalo a determinati privati. Noi siamo no per l'esternalizzazione, sì per l'interalizzazione e soprattutto non siamo per i subaffidamenti. Solo alcune scuole hanno già riaperto i battenti e già si sono verificati numerosi disagi per gli studenti pendolari. Lunedì quindi con la riapertura degli altri istituti lo sciopero dovrà necessariamente essere notato e forse il presidente Giulianti sarà costretto a incontrare i sindacati prima di apportare drastici cambiamenti.